Qualche volta ci si imbatte in notizie talmente singolari da non riuscire a trattenere risate isteriche in stile Tom Cruise. Spesso e volentieri queste notizie riguardano la follia del politicamente corretto nei videogame, che da diverso tempo ha creato un'aura di tragicomico attorno ai publisher e agli sviluppatori più insoiati. Oggi ci soffermiamo di più sull'aspetto puramente comico del tutto, grazie alla geniale trovata di D3 e Matrix Software con il loro Omega Labyrinth Life e la pernacchietta in diretta a Sony. Il gioco, previsto per il prossimo agosto in Giappone su Switch e PS4, avrà infatti una versione apposita per proteggere i bambini e i guerrieri sociali su PlayStation. Parlare di censura è poco, si tratta effettivamente di un gioco sostanzialmente diverso rispetto alla controparte Switch. Gematsu ha riportato una tabella in lingua comprensibile con tutte le differenze e alcune sono effettivamente da premio Oscar per l'illogicità. Qui abbiamo raccolto quelle più interessanti, date un'occhiata. Quindi su Switch abbiamo illustrazioni normali, che sono presenti anche in versione PS4, ma sulla console Nintendo ci sono anche le Oppai Appraisery, che letteralmente vuol dire valutazione tette, Oppai vuol dire tette. E full bloom break, ok. Poi su Nintendo Switch abbiamo possibilità di acquisire punti esperienza toccando le ragazze in determinati punti. La PlayStation 4 non apprezza né touchscreen né touch nulla, quindi niente sezioni touch. Su Switch c'è poi la meccanica Oppai Appraisery. Un'altra valutazione tette. PlayStation 4 dice no. Poi su Switch abbiamo la possibilità di giocare con le tette attraverso Joy-Con. Vabbè, ok. PlayStation 4 però dice no. Su Switch abbiamo la possibilità di interagire con le illustrazioni. PlayStation 4 dice no. Infine su Switch abbiamo scene termali con tutti i personaggi. Scene termali, probabilmente lo saprete, sono un cliché ricorrente in anime, manga e quant'altro. Su PlayStation 4 hanno ben pensato di sfruttare la maggiore potenza di calcolo della console per offrire più vapore e nebbia volumetrica in maniera tale da coprire il copribile. Ci sono ovviamente tanti altri punti, ma il concetto crediamo sia sufficientemente chiaro. Praticamente tutti i contenuti lontanamente sessuali relativi all'interazione con i personaggi sono assenti nella versione PS4. L'intento del publisher è chiaramente quello di mostrare con garbo il medio a Sony, che ricordiamo aver proibito a P-Cube di pubblicare Omega Labyrinth Z in occidente causando parecchi grattacapi al distributore e ai giocatori. Il messaggio è piuttosto chiaro, ovvero i neopuritani della California si beccano una versione censuratissima che probabilmente nessuno comprerà. Mentre Nintendo, che è il maschio alfa della situazione, prende capra e cavoli in un colpo solo. Omega Labyrinth Life è a tutti gli effetti un'esclusiva mascherata. L'assurdità della situazione, specie se siete giocatori di vecchia data, è notevole. Nintendo, ultimo baluardo dei giochi con contenuti espliciti su console. Ragazzi, il mondo sta finendo. Evviva il 2019! Volendo fare un giro più largo, comunque interessante constatare come pian piano si stia avverando una delle tante profezie del nostro Zeus Exi della sventura. Sony, che credeva di potersi permettere di maltrattare e comandare a bacchetta tutti i partner giapponesi, inizia a ricevere picche. Le censure dettate dal politicamente corretto non sono viste di buon occhio nel sollevante. Anzi, la maggior parte dei giocatori le osteggia a merluzzo duro. Se c'è una cosa che non bisogna toccare ai giapponesi è il fanservice in anime, manga e videogiochi. Loro sono buoni, cari ed educati, ma se gli togli le tette virtuali diventano bestie. Omega Labyrinth Life sta mandando un messaggio chiarissimo. Non a caso le lamentele si sono sollevate anche in modo pesante sui social, e Sony è stata addirittura costretta a giustificarsi dando la colpa al movimento Me Too e altre cagate del genere. Nintendo, che scema non è, ha colto la palla al balzo, accogliendo sotto la sua ala centinaia di sviluppatori indipendenti o meno in rotta di collisione con Sony. Il fanservice ha un mercato abbastanza forte, alla gente piacciono i contenuti sessuali e le tematiche suggestive, negarlo significa rifiutare la realtà dei fatti. E se la concorrenza rinuncia a sfruttare una fonte cospicua di guadagno sarebbe da stupidi lasciarsi scappare all'occasione. Takashi Mochizuki del Wall Street Journal ha rivelato che Marvelous è stata costretta a rimuovere il fanservice dal suo prossimo titolo, che probabilmente sarà esclusiva PS4 e abbassare le previsioni di guadagno per l'anno corrente. Marvelous, per chi non ricordasse, è il publisher di Senran Kagura, una serie recentemente nell'occhio delle censure a tal punto da costringere il direttore, Kenichiro Takaki, alle dimissioni. Arriverà il momento in cui perfino i partner commerciali più fedeli a Sony non potranno più sostenere un modello contenutistico tanto scriteriato. PS4 ha dalla sua una base installata enorme, cosa che spinge la quasi totalità degli sviluppatori giapponesi a voler pubblicare su quella piattaforma. Ma che cosa succederà nella prossima generazione? Attualmente Switch ha già superato le vendite di PS4 in Giappone e non è un dato insignificante. Mettiamoci anche il fatto che PS5 avrà un prezzo probabilmente sopra le aspettative e senza il supporto dei giapponesi le esclusive degne di questo nome mancheranno all'appello. Non ci saranno più Bloodborne, Persona, Nier, tutti i system seller dell'attuale generazione, molti dei quali è tra l'altro possibile reperire o emulare su PC. Adesso ci sono Days Gone, Predator e il gioco dello scoiattolo volante. E niente raga, fa già ridere così. Buona fortuna Sony. Ok ragazzi per questo video è tutto, come al solito vi invito a condividere, lasciare un like e iscrivervi al canale e noi ci risentiamo alla prossima.